Nella mia casa c'è tutte le pedate nere sia nella mia che quella del vicino, ha capito? Questi sono come i gatti, entrano dappertutto, però sono gatti che non è che ti fanno le fusa e ti fanno i complimenti, questi sono gatti che ti graffiano e se possono ti mordano anche. L'adriacrobati, in questo caso dei veri e propri professionisti in azione, è infatti ancora all'arma e furti ad Arezzo. Nel mirino dei malviventi è finita la zona della Catona, alle porte del centro storico Aretino. Noi nel giro di dieci anni abbiamo subito quattro furti, addirittura gli ultimi due nel giro di otto giorni. Il primo colpo la scorsa domenica, poi a distanza di qualche giorno la seconda incursione, sempre con lo stesso modus operandi, a fare la mara scoperta i proprietari di casa, una coppia di pensionati al loro rientro. Si era ripetuto la scena che avevo visto una settimana prima, il vetro della manzarda rotto, tutti i ferri di sicurezza uno tagliato e in più erano entrati dentro, avevano messo a suo quadro tutto. Fortunatamente scendendo la prima rampa di scale per accedere al piano notte nostro, hanno trovato la porta chiusa dal di dentro a doppia mandata con un cilindro da porta esterna che l'ho fatto mettere per sicurezza. Al che? Hanno abbandonato tutto e in quel viaggio non hanno preso niente. Obiettivo dei malviventi è ancora una volta denaro e preziosi. Non ce n'era una che non fosse stata scoperta. Nella stessa serata, sempre in zona Catona, è stata visitata anche un'altra abitazione. C'era baino su un tetto, ha rotto il vetro, sono entrati dentro. Fortunatamente c'è questa bischiolina che ha fatto tanto casino e allora sono andati via perché mi hanno aperto l'armadio ma sono scappati dalla terrazza. Se no noi siamo qua giù, facevano il comodo e poi andavamo via. Adesso, oltre al danno, resta anche tanta amarezza. Noi lasciano una grande angoscia, ci si sente proprio abbandonati.